Musica Furto di liquori in un bar sulla spiaggia Pesaro, la polizia sulle tracce dei giovani ladri ripresi con le mani in stacco dalle telecamere di videosorveglianza Prima l'esplosione e un forte boato, poi la colonna di fumo, paura, polverigi per l'incendio divampato in due silos Tutti gli operai sono riusciti a mettersi in salvo Al via gli esami di maturità per 14.000 studenti nelle Marche per la seconda volta una prova diversa con un maxi orale in base all'indirizzo di studi Aperto il punto vaccinale di Calcinelli accoglie al Metauro Oggi pomeriggio, le prime 40 somministrazioni 12 anni e scrive una lettera ai carabinieri di Carpegna Grazie per il lavoro svolto durante la pandemia Come disse San Paolo, ognuno si è sottomesso all'autorità superiore perché sta al servizio di Dio per il tuo bene A Fano, le vacanze per i piccoli principi presentata la nuova campagna turistica della città con i video e i dépliants che promuovono i servizi a misura di bambini Dalla Moretta all'Isippo ecco i 13 manifesti che verranno affissi a Fano sulle penseline dei bus un progetto di rigenerazione urbana a cura degli studenti del Polo 3 Buonasera e bentornati sul canale 17 di Fano TV per una nuova edizione di Occhio alla Notizia Apriamo con il saccheggio di superalcolici che è avvenuto al bar Maschenada sulla spiaggia di Pesolo il furto per un valore di 600 euro è stato messo a segno da due giovani ripresi dalle telecamere di videosorveglianza il servizio di apertura è stato curato da Angelica Panzieri Pensavano di non essere visti e invece una telecamera di videosorveglianza li ha ripresi mentre agivano indisturbati al Maschenada Mas un bar sulla spiaggia di Pesaro vicino ai Bagnigessi i malviventi almeno due molto giovani hanno scavalcato il cancello nella notte tra sabato e domenica e poco prima del luna sono entrati per rubare alcolici e superalcolici a sparire sono stati soprattutto rum, vodka e amari per un valore di circa 600 euro la telecamera collocata sul retro del locale li ha ripresi a lungo mentre setacciavano frigoriferi e scaffali alla ricerca di alcolici dalle immagini fornite dalla titolare del locale si vedono mentre camminano con calma lungo un corridoio soffermandosi con attenzione all'interno del frigo rabbia e sgomento da parte della proprietaria del bar Deborah Gabucci che ha già denunciato il fatto alle forze dell'ordine hanno frugato, aperto frigoriferi, congelatori, come se fosse la casa loro per un valore di? per un valore di circa 600 euro ma al di là del valore economico è più la rabbia e il fastidio per il fatto che si permettano di entrare e di fare insomma, non so, come se fosse la casa loro c'erano delle telecamere di videocerva? sì, loro probabilmente sono venuti durante il giorno e hanno visto la telecamera che noi abbiamo lì davanti al bar pensando di evadere e di eludere quella si sono accucciati e poi hanno girato dietro mentre poi dietro sono stati ripresi dalla telecamera di sicurezza dell'istituto di Vigilar che ci segue per queste cose questi giovani sono stati identificati? Avete avuto notizie? noi abbiamo fatto la denuncia, adesso sta facendo il percorso insomma quello classico e se verranno poi identificati e riconosciuti, questo ancora io non lo so oltre al fatto che hanno rubato, diciamo c'è stato anche qualche danno? no, danni non ne hanno fatti, non hanno fatto nessun danno hanno solo frugato e guardato ovunque, sembrava che stessero facendo una passeggiata, non lo so, in un museo si guardavano in giro come, sì incuranti insomma assolutamente, proprio meno freghisti e incuranti di tutto quindi tanta rabbia soprattutto sì, rabbia perché siamo a inizio della stagione se iniziamo così direi che insomma non abbiamo iniziato bene, no spaventoso sinistro oggi pomeriggio alle 16.40 a Mondolfo dove due auto si sono scontrate una è finita fuoristrada ribaltandosi sul lato destro la dinamica è ancora al vaglio della polizia locale ma pare che si tratti di una mancata precedenza dai primi accertamenti è emerso che una 42enne di San Costanzo alla guida di un Infiniti stava provenendo da Via del Buzzo quando per immettersi su Via Unita d'Italia si è scontrata con una Fiat Punto condotta da una 52enne di Ponte Sasso di Fano la Fiat che procedeva in direzione Marotta a causa dell'impatto e uscita di strada e la conducente che ha riportato ferite pare non gravi è stata trasportata dal 118 all'ospedale Santa Croce sul posto anche i carabinieri di Marotta un incendio invece ha interessato questa mattina due silos entrambi in manutenzione all'interno della ditta Fiera Musca Polverigi in provincia di Ancona che si occupa di lavorazione del legno le fiamme sono divampate in uno dei due silos situato all'esterno del fabbricato anche l'altro è stato investito ma era vuoto nel primo c'era stoccata della segatura è stata registrata anche una forte esplosione verso le 8.30 il boato si è sentito a chilometri di distanza ma non ha causato danni esterni al silos né feriti infatti gli operai che erano al lavoro sono riusciti a mettersi in salvo il fuoco ha generato una lunga colonna di fumo che si è propagata in aria sono in corso gli accertamenti per capire le cause forse legate a un problema di filtri sul posto i vigili del fuoco di Osimo e di Ancona e adesso gli aggiornamenti che riguardano il Covid sono due decessi legati appunto al coronavirus registrati nelle Marche nell'ultima giornata le vittime sono un anziano di 94 anni di Ancuna e una donna di 69 anni di Porto Recanati inoltre i nuovi positivi sono 29 di cui 11 nella provincia di Macerata mentre negli ospedali ci sono 11 ricoveri meno rispetto a ieri i pazienti in terapia intensiva scendono a 8 e quelli in semi intensiva a 17 è partito oggi pomeriggio nuovo centro vaccinale nella comune di Colli al Metauro operativo nei giorni di mercoledì e venerdì 40 le dosi somministrate in questa prima giornata Filippo Pucci anche Colli al Metauro ha il suo centro vaccinale si tratta della Casa della Salute lungo via Flaminia nella zona di Calcinelli ieri mattina sono iniziate le prenotazioni mentre questo pomeriggio sono partite le somministrazioni per le persone con meno di 60 anni in questo distretto sanitario potranno rivolgersi i residenti dei comuni di Fano, di Colli al Metauro di Cartoceto, di Monte Felcino di Sant'Ippolito, di Isola del Piano ed infine di Fossombrone due saranno le giornate da qui in avanti messe a disposizione i mercoledì e i venerdì dalle 14.30 alle 18.30 a curare l'organizzazione è il medico Fabrizio Valeri in qualità di coordinatore dell'equip territoriale il nostro obiettivo è quello di vaccinare più gente possibile proprio perché usiamo un vaccino Pfizer quindi possiamo prendere tutta la gente come abbiamo detto anche nei vari comunicati che le persone che praticamente si muovono i ragazzi, la gente che lavora quindi per far sì che arrivando a settembre-ottobre tutte queste potenziali persone che girano non possono infettare le altre più deboli e quindi che siano immunizzati loro e sia anche una protezione per gli altri quindi è importante non essere iscritti in altri siti di vaccinazione quindi se qualcuno lo è qui non può avvenire e non si fa la seconda dose ma si fa le dose iniziali poi noi richiameremo e saranno richiamati per le vaccinazioni di richiamo quindi per completare la vaccinazione abbiamo messo un massimo di 50 vaccinazioni al giorno ha aggiunto poi il dottor Valeri ma crediamo che prima o poi dovremo aumentare i numeri perché la richiesta è davvero tanta intanto nella giornata di oggi sono state 40 le dosi inoculate siamo molto soddisfatti di questo risultato di questo centro vaccinale siamo anche sicuri che la cittadinanza darà una grande risposta in termini di partecipazione anche perché siamo perfettamente consapevoli che la vaccinazione è l'unica strada per uscire velocemente da questo triste periodo di pandemia per prenotare occorre telefonare a questo numero attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 colgo l'occasione per ringraziare le associazioni che hanno contribuito in maniera concreta all'apertura di questo hub vaccinale di zona in particolare il gruppo comunale di protezione civile l'associazione in viaggio lungo il Metauro l'associazione nazionale carabinieri in congedo l'Avis e tutte quelle che magari da qui in avanti potranno prendere parte attivamente alla gestione di questo centro è il centro di tutti e penso che sia giusto che ognuno dia proprio contributo Nelle Marche sono 125 le farmacie che hanno aderito alla campagna di vaccinazione anti-covid e si possono prenotare tutti i cittadini di tutte le fasce di età che riceveranno la dose che sarà disponibile Sarà un servizio a domanda individuale chi vuole vaccinarsi potrà recarsi direttamente dal suo farmacista e chiedere l'appuntamento L'obiettivo della regione ricordato l'assessore Salta Martini è quello di raggiungere quanto prima l'immunizzazione di massa il traguardo che abbiamo tagliato nei giorni scorsi di un milione di dosi somministrate ci fa ben sperare Al via questa mattina gli esami di maturità cimentarsi nella prova che anche quest'anno consiste in un maxi colloquio orale rimodulato per via del covid sono circa in totale 14.000 studenti marchigiani di cui quasi 3.000 nella provincia pesarese È arrivato il grande giorno oggi esame di stato per 14.000 studenti marchigiani qui alle mie spalle potete vedere già alcuni ragazzi che hanno sostenuto la prova siamo andati a sentire come è andata Pronti partenza via elaborato in mano e tanta emozione per gli studenti che questa mattina alle 8.30 hanno sostenuto il primo giorno di esame in tutta Italia ben 540.000 maturandi di questi 13.946 sono marchigiani e 2.942 della provincia di Pesaro Orbino una prova anche quest'anno riformulata per via dell'emergenza covid come lo scorso anno infatti non era previsto lo scritto ma solo un maxi colloquio orale della durata di un'ora che i candidati devono sostenere partendo dalla discussione di un elaborato presentato a fine maggio la tesina da cui inizia l'orale è stata assegnata dai consigli di classe sulla base del percorso svolto dallo studente e riguarda le discipline caratterizzanti l'indirizzo di studi a seguire l'interrogazione su un testo d'italiano trattato durante l'anno l'analisi di materiali proposti dalla commissione siano essi un grafico, una foto un'opera d'arte, un problema o un verso e per finire l'esperienza di alternanza scuola-lavoro gli studenti hanno a disposizione fino a 40 punti per poter arrivare al massimo dei 100 a disposizione gli altri 60 li portano in dote dagli ultimi tre anni di scuola si è partiti oggi dunque con un massimo di 5 studenti al giorno qualcuno di loro intervistato dalle telecamere di Fano TV ha già raccontato cosa è in programma per il futuro prima un viaggio al caldo per festeggiare dopo mesi di studio e sacrifici e poi nella maggior parte dei casi l'iscrizione all'università è stato più semplice di quello che mi aspettavo rispetto a ieri era anche abbastanza teso però dai alla fine lì si passa in fretta quindi è stato più semplice di quello che mi aspettassi questa notte hai dormito oppure è notte in bianco? è notte prima degli esami è stata abbastanza dura addormentarsi però piano piano poi il sonno prende sopra il vento quindi sì alla fine ho dormito tutto concentrato in un'ora in cui si è dovuto cercare di mettere di far vedere quello che ho imparato in 5 anni che non è semplice però alla fine sono contento e penso siano tutti contenti di aver potuto dare un esame quasi normale quali progetti per il futuro che cosa farai? il prossimo anno penso sicuramente andrò a fare economia a Bologna in inglese benissimo dai è andata bene sono soddisfatto quanta preparazione c'è stata dietro soprattutto quest'anno con la didattica a distanza immagino non sia stato facile quello è vero sicuramente anche con il prof che faceva lezioni da casa di italiano e latino quindi 7 ore settimanali molto dure tra scuola in presenza, scuola a casa e poi finalmente l'ultimo mese e mezzo tutti in presenza ha aiutato molto ecco dove andrai a fare il viaggio di maturità se lo farai? sì parto il 28 e vado a Mallorca sto fino al 4 sei vaccinato quindi? ho fatto la prima dose del Pfizer progetti per il futuro che cosa farai? andrai all'università? sì proverò a dare il test a fisioterapia a Ferrara avevo grandi aspettative ero la primissima di oggi quindi proprio prima di aprire gli esami di Stato 2021 e quindi l'ansia ha aiutato in parte e soddisfatta dai è andata bene le professori hanno davvero aiutato e sono stati molto clementi e cosa farai dopo? dopo studerò criminologia quindi nonostante faccio il linguistico ho scelto il campo delle scienze e a Firenze quindi sono molto molto emozionata mi hanno messo molto a mio agio quindi già questo è un primo punto importante da cui partire e mi hanno chiesto principalmente l'estetismo e volendo andare a fare storia dell'arte nella mia vita è stato proprio diciamo preciso per me durante l'anno è stato molto difficile seguire soprattutto in didattica a distanza e devo dire che la lettera è stata estratta lunedì e sapere di essere mercoledì è stato frustrante quindi in questi ultimi due giorni ho fatto il ripasso totale per questo ero molto molto stressata soprattutto ieri sera però una volta arrivata questa mattina ho detto quel che è fatto è fatto e sono andata tranquilla infatti è andato tutto per il meglio Progetti per il futuro che cosa farai? Università sicuramente, storia dell'arte quindi credo a Bologna molto più tranquillo di quello che mi aspettavo immotivata tutta l'ansia di prima mi hanno chiesto, allora ho portato la probabilità in medicina come elaborato e poi abbiamo fatto una chiacchierata interdisciplinare con come fulcro le Hawaii e la situazione geologica dell'Hawai Programmi per il futuro? Medicina, se si entra ovviamente medicina C'è anche in piano un viaggetto per l'estate oppure no? Sicuramente con la classe andiamo a Gallipoli e oltre ad altri ne farò Bella sorpresa per i carabinieri di Carpegna che hanno ricevuto una lettera inviata da Nicolas Gaudenzi un ragazzino di 12 anni che ha voluto ringraziare l'arma per il lavoro svolto durante la pandemia sono figlio del falegname e abito nella zona di Cadiferro si legge nella lettera vi scrivo per dirvi grazie per la protezione che ci avete dato lo avete fatto assicurandovi che avessimo sempre il materiale per proteggerci come le mascherine grazie del vostro supporto informativo ed emotivo pensando a voi, ha proseguito Nicolas i miei genitori ci hanno fatto ragionare su un passo biblico dove San Paolo dice ognuno sia sottomesso alle autorità superiori perché non c'è l'autorità se non da Dio e nel versetto 4 viene precisato perché essa è al servizio di Dio per il tuo bene la lettera del 12enne è stata anche corredata di un disegno rappresentativo del lavoro svolto dai militari che invitavano appunto durante l'emergenza sanitaria i cittadini a rimanere a casa in fondo la scritta grazie di tutto prosegue a Fanno la riqualificazione urbana grazie alla collaborazione degli studenti del Polo 3 a breve verranno installati dei manifesti sulla storia e sulle tradizioni della città nelle pensiline delle fermate dei bus 13 manifesti dedicate all'isippo, al sole, a un pescatore fanese e alla moretta sono questi i temi scelti dalle due classi dell'indirizzo di grafiche e comunicazioni del Polo 3 che hanno realizzato gli elaborati entro due settimane verranno affissi nelle pensiline delle fermate degli autobus dislocate da Fosso 6 ora a Metauriglia il progetto, incentrato sull'attesa come filo conduttore è fortemente voluto dall'assessore Barbara Brunori in collaborazione con l'azienda di trasporto pubblico AMI e l'associazione Ridosso il mio progetto è stato il manifesto della moretta il mio intento era quello di ricordare ai cittadini di Fanno la ricetta tipica della moretta ma anche a chi non la conosce l'opportunità di conoscerla abbiamo ricavato delle immagini dei tempi passati quindi c'è questo pescatore che attende e durante il nostro intento era quello di far esprimere la sua attesa mentre beve la moretta i ragazzi, ha commentato la dirigente scolastica Eleonora Ugello sono i protagonisti di un grande progetto di educazione civica che ha anche una forte valenza di cittadinanza attiva questo affondare le radici nel passato per comunicare un'idea che va verso il futuro vivendo il presente con più consapevolezza e utilizzando le tecnologie che il presente mette a disposizione tecnologie che oggi sono multimediali e che i nostri ragazzi nelle varie discipline di studio apprendono come conoscenza ma che poi devono trasformare in competenza hanno lavorato in squadra, ha proseguito la preside e hanno portato avanti le loro idee fino alla bozza finale un lavoro seguito da diversi docenti della scuola abbiamo utilizzato la fotografia, l'illustrazione dando anche e soprattutto ai ragazzi la possibilità di esprimersi a 360 gradi secondo quelle che sono le loro potenzialità passioni e applicazioni preferite quindi questo è il mettere insieme possibilità, sensibilità degli allievi e disponibilità tecniche della scuola Tra gli studenti spicca anche il lavoro eseguito da Giovanni Boncompagno un ragazzo diversamente abile che ama esprimersi attraverso un computer lo studente ha realizzato un manifesto in chiave eronica incentrato su un pescatore che prende l'atleta di Fano immerso nelle acque fanesi da ogni manifesto su cui è presente un QR code si accede a un video preceduto da una breve sigla introduttiva alcuni alunni hanno realizzato un timelapse cioè una sequenza di foto dedicata all'alba e un video con la testimonianza di Lauro Borgoggelli detto l'alo, superstite della violenta tempesta dell'8 giugno 1964 Passando banda da una barca all'altra mi dicono è morto Riccardo il Perugì un amico mio intimo che stiamo a dirimpetto a casa è un progetto culturale è un progetto che vuole educare, far conoscere ma anche che mette al centro il tema della cura che non mi stancherò mai di dirlo proprio per rendere più responsabili i nostri giovani quindi noi tutti al preservare al meglio il nostro territorio Affanno le vacanze per i piccoli principi con questo slogan il sindaco Massimo Seri e l'assessore Etienne Lucarelli hanno presentato la campagna di promozione della città dedicata ai turisti con tutte le iniziative e i servizi dedicati ai più piccoli Affanno ci sono tante casette colorate si chiamano Elena Tommasi e Alessandro Rossini Fanisi Doc di 6 anni e sono i protagonisti della nuova campagna di comunicazione dell'assessorato al turismo che ha lanciato Vacanze per i piccoli principi chiaramente ispirato al libro di Antoine de Saint-Exupéry il progetto comprende dei video nei quali viene raccontata la città da un punto di vista insolito e fantasioso quello dei più piccoli Affanno infatti è in grado di offrire una proposta ricca di stimoli che piaccia alle famiglie alla ricerca di un luogo nel quale vivere un periodo di benessere ma anche i bambini che possono giocare spazi tranquilli tante le opportunità di mare relax e divertimento anche sulle spiagge del litorale fanese dove sventolano la bandiera verde e quella blu per le acque pulite anche la cultura fa la sua parte con i laboratori gli spettacoli e le tante attività per vivere un'esperienza unica ed emozionante io ci vado in bici e scopro tutti oltre alla promozione sui social è stato creato un depliant con l'elenco delle strutture ricettive compresi servizi aggiuntivi come il noleggio gratuito di passeggini e zaini fino alla ristorazione con menu a loro dedicati informazioni anche sugli stabilimenti balneari e i luoghi di divertimento con i link che rimandano direttamente alle strutture tra queste lo sport park il museo del valì e casa archilei sul sito invece spazio anche al calendario degli eventi a misura di bambini e una mappa nella quale sono indicati tutti i servizi con colori diversi in base alla tipologia l'idea è dare concretezza al piano strategico abbiamo presentato la nuova vision della città qualche giorno fa hanno detto che quest'anno lavoravamo su un vero prodotto turistico quello dedicato alle famiglie tutto questo lo venderemo nel mercato turistico con una campagna veramente carina quindi anche Fano al suo piccolo principe e Fano sarà una vacanza per piccoli principi una promozione costante che ovviamente vuole arrivare anche nel periodo autunnale perché vogliamo anche un po' destagionalizzare quindi direi un progetto molto importante e questa strada la compirà anche il progetto che riguarda l'outdoor il progetto che riguarda dare vitalità alla città di Vitruvio alla città del Carnevale e così come tanti altri prodotti turistici che dovranno dare vera forza al turismo nella nostra città è un messaggio semplice efficace e immediato ha commentato invece il sindaco Seri lavoreremo anche su altre iniziative si tratta di investimenti che portano risultati e ricadono sull'intera città lo slogan che abbiamo scelto chi non vuole una vacanza da bambini la vacanza è leggerezza e ci piace tornare anche bambini con intelligenza ovviamente ma quello che mi piace sottolineare è che sta in un riconoscimento che abbiamo avuto a livello internazionale con questo progetto WONDER che riguarda proprio il riferimento alla città dei bambini ma in termini turistici in termini di qualità dell'accoglienza per le famiglie è un riconoscimento ma che si trasforma anche in finanziamenti e grazie a questa opportunità stiamo creando questo percorso che è passato attraverso anche il piano strategico del turismo ma non è un punto d'arrivo è una tappa vogliamo sempre migliorare sempre crescere e questa è già una prima risposta una prima tappa molto importante perché a Fano si può fare una vacanza da principini a Fano ho scoperto una chiesa stranissima wow non hai il tetto il tetto è il cielo bellissimo e se piove come si fa? i grandi sono ben strani se non desiderano una vacanza da bambini si intitola l'ultima lettera ed è il libro di Sergio Schiaroli edito dalla fondazione Carifano che verrà presentato domani alle ore 18 alla Pinacoteca San Domenico si tratta di un testo in cui l'autore racconta di alcuni personaggi ma anche luoghi fanesi sia dell'Alzheimer che aveva colpito sua moglie e della necessità di garantire cure e prestazioni adeguate a chi vive queste difficili giornate di dolore l'ingresso sarà gratuito e il volume verrà distribuito all'ingresso con la possibilità di devolvere un'offerta libera all'associazione Adamo alla presentazione interverranno il presidente della fondazione Carifano Giorgio Gragnola il sindaco Massimo Seri la presidente di Adamo Donatella Menchetti e lo stesso Sergio Schiaroli ci sarà anche un saluto musicale di Paride Battistoni violinista dell'orchestra sinfonica Rossini questa era l'ultima notizia della telegiornale tra poco trasmetteremo uno speciale sul consiglio direttivo della confartigionato imprese di Ancona Pesor Urbino al quale ha preso parte anche il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli invece l'informazione torna domani mattina in diretta alle 7 con la nostra rassegna stampa Occhi e giornali Buona serata a tutti voi Grazie a tutti